ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio all'interno della baracchetta eccoci qua all'interno della baracchetta degli orologi che in realtà è la gioielleria pasquale domenici di viareggio che parte del canale e c'è l'amico giacomo che è te poi purtroppo abbiamo portato anche l'amico piero e saluta vedete come la regina perché l'ha detto e l'ha detto alla lettura delle domande d'altronde io qualcosa devo da fare devo trovargli e quindi gli abbiamo dato questo compito che è un po una scalata per lui ma ultimamente si sta si sta impegnando no sta anche facendo degli studi da doppiature se dopo sbagli tagliamo sto studiando e quindi noi siamo qua per leggere le domande che come al solito faccio apro una storia su instagram e vi chiedo di fare le domande e poi dopo qua le pubblichiamo ne sono arrivati 130 qua ce ne sono 25 abbiate pazienza ragazzi ma non possiamo rispondere da tutte anche perché noi siamo molto concisi no sappiamo fare bene riassunti e quindi e quindi vengono le risposte vengono corte volevo aggiungere poi domenica 12 maggio 12 maggio 6 12 maggio alle ore 15 qua davanti alla gioielleria dell'amico giacomo ci sarà il quinto watch meeting il quinto raduno del canale dove ci incontreremo tra tutti gli amici appassionati di orologi per parlare di orologi guardarci gli orologi farò anche un mini videino qua fuori così e poi all'interno ci sarà tutti gli orologi per voi da provare senza chiedere niente a lui proprio riprendete l'importante diamo anche le chiavi anche le chiavi e poi ci saranno dei piccoli stand diciamo la rappresentanza di vulcain oris che anche sponsor della manifestazione long jean e l'amico francesco calamai con orologi calamai che ti toglie dai guai detto con la partecipazione di umberto pellizzani bravo testimonial di oris e anche un uomo di spettacolo e l'amico piero testimonial di davide cecchino e l'amico piero testimonial e va bene dai iniziamo marco pansiera ciao davide è prevista l'uscita di un login con questa magari 37 38 mm un saluto a tutti voi all'amico piero compreso e complimenti per il tuo canale e le sue varie rubriche sempre molto interessanti e belle ciao marco ciao marco un caro saluto marco ciao marco ti aspettiamo al watch meeting l'ultima volta non sei venuto male 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 eccolo qua ragazzi il login conquest da 38 mm nella sua versione nera lo volevate lo aspettavate lo desideravate e finalmente è arrivato chiaramente non c'è solo nero ma c'è anche c'è anche blu c'è anche verde c'è anche marrone e poi c'è un nuovissimo colore chiamiamolo champagne beige barra champagne champagne per brindare un ingondro sì o come sta da 38 sul polso perfetto chiaramente c'è poi ognuno non è che quello da 41 non vada bene ma ognuno ha i propri gusti anche sul mio polso grandino il 38 sta bene mi fa gola questo orologino qua ragazzi bello questo un every day every day watch ce l'abbiamo fatta abbiamo trovato l'every day watch si fa fa un pochino a gara con lo spirit come every day watch sì forse questo ha un sapore leggermente più elegante rispetto allo spirit sicché avete una doppia opportunità sì 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 questo è più elegante logico cambiano anche contenuti rispetto allo spirit cioè manca certificazione cos che mancano un sacco di cosine se non mi siete handicappati quando si giampaolo vorrei uno skin diver dal sapore vintage sto valutando il vulcan nautique quale altro marchio in dotazione sentireste di consigliare per una fascia di prezzo che non superi i 2000 euro dagli e piero che la vetta si avvicina va bene io di solito consiglio come ledox skin diver no come alternativa è sempre quello si ora quando la versione blu che è quella un pochino meno ispirata al vintage però al suo perché e se poi parliamo di meno ispirata al vintage possiamo anche mettere a confronto la nuova versione dello skin diver del vulcan skin diver ossia quella con il quadrante arancione anche questa meno vintage del solito ma insomma esistevano anche orologi vintage arancioni al tempo quindi non è che l'arancione non fosse apprezzato in passato orologi ora purtroppo ci ha dato un limite un tetto limite perché sennò potevamo prendere in considerazione anche il 65 di onis è vero sfora leggermente i 2000 e tra l'altro mi sono arrivati anche gli ultimi pezzi degli acciaio e bronzo quadrante tabacco ancora si sono gli ultimi già l'altra volta c'era più che uno adesso sono arrivati no più che uno si era detto però non erano ancora arrivati ora mi sono arrivati sono c'ho qualche pezzo sono stati recuperati ovviamente in fabbrica e poi non esisteranno più ottimo ottimo ma comunque le alternative sono queste sì attilio da avversa caserta salve il sito della gioielleria spesso non riporta la reale disponibilità in sede degli orologi mi è capitato a volte di dover cambiare scelta poiché appunto non vi è la disponibilità al momento di un dato orologio avete in programma un upgrade per le giacenze online del sito grazie mille purtroppo non riusciamo ad interfacciare il sito col nostro magazzino è un'operazione che andrebbe fatta a mano e comporta una perdita di tempo molto molto complessa anche perché abbiamo tanto personale in negozio che vende orologi quotidianamente più c'è tutta la parte online abbiamo ovviamente migliaia di referenze caricate sul sito noi vi garantiamo il miglior trattamento sul mercato però spesso su alcune referenze qualche giorno c'è da aspettarlo vi consiglio solo se avete delle premure di tempo perché magari dovete rispettare delle date anniversari compleanni fateci uno squillo prima differentemente se acquistate per voi pazientate cioè non è il pane nessuno muore daniele ciao ragazzi si potrebbe vedere al polso lo zoidac skin diver con il dial verde grazie mille un abbraccio ci si vede il 12 maggio bravo ti aspettiamo il 12 maggio il dial come dice piero il dial è il dial perché in lingua inglese dove è scritto devo imparare vedi che sto imparando eccolo qua questo qua con il quadrante verde che dire verde anche limitante perché veramente una sfumatura di che va verso il giallo lime in lime ci piace il colore l'anima eccolo qua cosa vorresti vedere al polso qual polso io come al solito non posso farlo vedere perché non mi riesce a me aprire gli orologi mi levo il mio bellissimo villa ervetta daino in eccolo qua bello bello guardiamo al polso come sta cartellino è stringito ma chi è con la mano eccolo qua ora qua lo vedete pellicolato perché non ci permettiamo ma guardate qua come come è estivo è estivo storia molto bello si tra l'altro poi viene dato in dotazione con un bel cinturino molto floreale quello lì si accidenti molto molto marijuana ecco perché mi piaceva eccolo qua ci piace questo orologio promosso ci piace si tra l'altro un limited si che è ancora più interessante limited edition zodiac eccolo qua quanto costerà non si sa e va bello vai l'aiuto da casa 1859 ma dove volevo legge il prezzo non si sa comunque solamente al momento roberto ciao si può vedere un confronto anche al polso tra vulcan crono 1970 ed emilton intramatic crono se possibile nella verso nelle versioni panda un saluto a davide a giacomo a giacomo il bandito col berretto e all'amico piero allora l'intramatic è questo qua giusto il vulcan crono panda qua ne abbiamo due versioni no devi prendere il nero perché il panda in questo momento non ce l'ho anche se era un silver contatori neri però si chiamiamolo panda vabbè contrasto c'era sì sì il contrasto c'era poi esisteva ancora il vers panda che ha esaurito perché era un 100 pezzi mondo e non esiste più allora in effetti come come stile sono abbastanza comparabili nel senso si rifanno al vintage con i pulsantini a pompa questa bella corona sporgente la differenza sostanziale sta nella forma della cassa che sul vulcan è abbastanza tradizionale così curvilinea mentre sul tramatiche praticamente è più geometrica sono due spunzoni che escono fuori dalla cassa a rappresentare si l'amico a casa non ha specificato ovviamente come come le voleva ora i vulcan sono tutti a carica manuale mentre sull'emilton l'intramatic c'è la possibilità di scegliere o la versione automatica o la versione a carica ora il vulcan al polso sta così e direi che sta veramente bene anche il cinturino di questo colore è veramente azzeccato ragazzi sì anche perché il vulcan è un 38 e mentre l'intramatic è un 40 che c'è un po di differenza guardiamo questa 40 questo qua carica manuale quindi c'è il sellita 510 una roba del genere no questo qua invece c'è il derivato dal 77 50 77 53 perché i due contatori solamente quindi guardiamo come sta io c'ho questo e c'ho quello la versione manuale di questa questo è automatico automatico perché c'è la data è automatico comunque lo spessore è sempre lo stesso nella versione automatica che nella versione a carica manuale ragazzi 40 o 38 non è che cambia tanto magari sul mio polso che è un po più grande può fare la differenza su qualcun altro ma come al solito gli orologi andrebbero provati però con questi due diciamo che vai sul sicuro certo che la forma della cassa del vulcan è particolare mi piace tutto vetro vedi che tutto vetro sono belli tutti e Gino da Roccaraso Roccaraso ciao ragazzi numeri 1 mi piacerebbe avere una panoramica sul mercato degli orologi da un insider come Giacomo panoramica sul mercato degli orologi non so bene a cosa tu ti riferisca con la domanda è un momento ovviamente di contrazione economica dove diciamo sulla scia ovviamente del dopo covid c'è stata un'esplosione di interesse ma soprattutto con un pochino più di soldini in tasca un approccio un pochino più spinto nei confronti del settore orologero e ora ovviamente si fa sentire un pochino più la crisi di conseguenza siamo davanti a una trasformazione tanti marchi anche blasonati hanno avuto una riduzione di mercato ma io penso che tante piccole aziende che sono nate che non hanno avuto la capacità di esplodere in questi anni e di affermarsi consolidare la loro presenza sul mercato come sono arrivate rispariranno sicché ecco purtroppo siamo abituati a vedere dei cambiamenti nel nostro settore ma non solo in questo possiamo fare dell'analisi anche su altro di sei mesi in sei mesi che dovremo aspettare questo prossimo cambio e tirare diciamo le conclusioni del mercato alla fine del 2024 io non aggiungo altro ruggiero mangogna io non comprerei una porsche con il motore di una opel al prezzo di una fuori serie mi sentirei preso in giro perché invece deve essere accettabile in un orologio dal prezzo elevato chi l'ha mai detto che deve essere accettabile ognuno accetta quello che vuole cioè se io voglio un orologio che costa 50 mila euro con dentro pochi contenuti perché mi piace quell'orologio da 50 mila euro per me è accettabile per te non è accettabile ognuno ha la propria soglia per me è accettabile avere un brightling cronomat con il sellit sv200 dentro mi piace lo volevo lo voglio lo tengo lo terrò punto nessuno mi può dire niente nessuno ti può dire niente a te se invece non vuoi quell'orologio lì perché lo ritieni con pochi contenuti ognuno ragiona con la propria testa c'è anche da dire che se andassimo avanti così nessuno comprerebbe gli orologi super costosi invece li vendono li vendono perché devo prendere un blan pan 50 fatoms che costa 13 mila euro perché mi tolgo uno spizio perché mi piace quell'orologio perché mi rappresenta qualcosa poi ognuno è diverso dagli altri quindi fate come volete sì l'orologeria c'è anche da dire che come settore di lusso distintamente poi dal prezzo dell'orologio sente molto l'influenza anche del brand riportato sul quadrante e il marchio la storicità del prodotto ovviamente influenza tanto il prezzo finale sicché spesso vengono fuori dei prezzi sì che come rapporto tecnico non sono molto in linea però magari fanno parte di un marchio molto blasonato è normale che il prezzo debba stare dentro determinate soglie kevin ciao ragazzi quando uscirà il bracciale per l'emilton morph da 38 mm grazie per i fantastici contenuti che portate un saluto ok in primis deve uscire l'orologio per la vendita braccialato e slitteremo ovviamente a fine estate successivamente ovviamente dovremo dare il tempo perché la fornitura che un reparto a sé stante abbia a disposizione i bracciali da vendere singolarmente sicché calcola che dall'uscita dell'orologio passeranno circa altri due mesi però per chi vuole l'orologio col bracciale sarà disponibile sì ciao ragazzi se segua assiduamente il tuo canale davide soprattutto grazie al merito dell'amico piero domanda giacomo come va la vendita e la collaborazione con la casa madre per tutima avete qualcuno da farne vedere mi sembra che siano troppo sottovalutati nonostante per me superiori anche a izin un saluto da roma marco sottovalutati ma non lo so cioè sicuramente sono meno famosi e poi dipende anche dal marketing oppure anche anche da me per esempio cioè non è che su izin per esempio faccio un sacco di video su tutti ma ne ho fatti un po meno però non significa niente sì tanto è un marchio che diciamo per il nostro mercato è nuovo perché mi sembra che siamo due tre concessionari in italia sicché siamo ancora molto contenuti il prodotto è molto interessante ovviamente essendo entrato ora sul nostro mercato la casa non sta ancora spingendo sulla comunicazione logico oggi il prodotto di orologeria viene tanto influenzato dalle pubblicità dal marketing sicché ovviamente il prodotto come rapporto qualità prezzo è molto molto interessante poi dopo se voi volete fare delle domande specifiche volete dei video particolari scriveteci a me a Davide non ci sono problemi c'è anche da ricordare che tutti ma è a sede a glasshut che è la culla dell'orologeria tedesca cioè fanno anche calibri di manifattura ora non è caso di questi qua che sono un pochino più commerciali ma si fa anche per avere un prezzo più contenuto altrimenti è possibile anche acquistare quelli col calibro di fornitura si è possibile ordinarli io in questo momento non li ho inseriti ancora nel diciamo nella mia offerta perché sono abbastanza costosi che sono realizzati totalmente a mano penso che il diciamo il cliente italiano non sia ancora pronto per quel tipo di orologi ancora una vita e poi guardate il sistema di chiusura del fondello che è proprietario vedete qua con queste con questi cavalieri diciamo sono orologi tecnici simili simili agli zin sì non è sbagliato definirle così simone come mai le vendite di login sono in calo nonostante non stiamo sbagliando una mossa stiano simone come mai le vendite di login sono in calo nonostante non stiano sì ma l'interpretazione la devi fare anche un pochino no io io leggo legge senza comprendere lui doppia lui doppia io doppio simone come mai le vendite di login sono in calo nonostante non stiano sbagliando una mossa è solo una questione di prezzo di vendita troppo alto complimenti davide per il format un saluto a tutta la truppa in particolare al mitico piero va bene se l'aggiunge lui è ora intanto che si è partito dall'assunto che non si stia vendendo di meno e questo non lo so non lo sappiamo sappiamo ci sono dei dati tecnici allora tutto tutto il mondo dell'orologeria è con un leggero calo sta segnando un segno meno il segno meno che ovviamente sta registrando anche l'onjin allora intanto in percentuale è molto minore rispetto a tanti altri ma l'onjin è carata meno rispetto agli altri altri marchi cioè ci sono marchi se vogliamo facciamo anche il nome facciamo tudor alla fine del 2023 ha segnato un meno 35 per cento per quanto riguarda l'onjin siamo ancora dentro la decina di punti sì che ecco è un ovviamente un calo relativo è cambiato il mercato la grande vendita di l'onjin era dovuto anche a un pubblico straniero soprattutto asiatico che invadeva le nostre piazze principali come turista e ne compravano ne compravano anche 3 4 a testa perché poi se le portavano a casa e le rivendevano questo fenomeno è un pochino finito perché c'è poco turismo asiatico in questo momento di conseguenza stiamo lavorando prevalentemente con il mercato italiano sicché il segno poi meno in pochi punti percentuali se volendo anche relativo quasi inesistente di conseguenza posso dire che sì qualche qualche percentuale meno a livello di numeri sicuramente a livello di fatturato è cresciuta perché il prezzo medio nel frattempo è aumentato sicché ecco se parli nello specifico di l'onjin non lo leggerei come un segno negativo ma lo leggerei come una posizione abbastanza stabile malgrado il riposizionamento di mercato che è dato molto interessante sì una curiosità che io una volta ho chiesto al responsabile di l'onjin qual è il mercato principale perché mi diverto a fare queste domande per l'onjin qual è il mercato principale la cina cioè pensate la cina che sono miliardi di persone e perché sono legati al passato un po come gli italiani con l'onjin che hanno questa questo amore verso l'onjin uguale agli cinesi solo che i cinesi hanno una capacità di fuoco diciamo leggermente maggiore perché sono miliardi quindi come va in crisi la cina ecco fatto che le vendite possono calare antonio da messina ciao big davide un saluto al buon giacomo e al mitico piero io volevo solo farvi una domanda proposta davide hai mai pensato di fare dei video in cui visiti le case più famose e racconti la loro storia sarebbe molto interessante raccontato da te dalla tua simpatia antipatia ha 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 ciao siete miti come interpreti bene mamma mia proprio sei un attore nato grazie no non ce la voglia io non ce la voglia io sono veramente la persona più pigra del mondo io figurati che se vado a fare i video nelle case orologiere per poi fare un reportage reportage cioè non ce la voglia ora per esempio il buon giacomo dovrebbe aver organizzato di fare una visita a uboat che poi è qui a lucano quindi presto andremo lì ma io a sto qua cosa gli racconto che domande gli faccio cioè domande le faccio io assiste io assisto poi faccio qualche sparata capito cioè è tutto lì non ce la voglia non ce la voglia confermo in vent'anni a casa mia è venuto tre volte bugiardo comunque lo faremo e guiderò io ce lo porto io perché se aspettiamo lui ciao giovanni mercurio perché gli orologi di secondo polso non sono presenti nel sito della gioielleria grazie allora la verità è che non abbiamo il tempo di caricarli perché le facciamo vedere prima nei video e poi dopo ovviamente dal tempo che li facciamo le foto le carichiamo sul sito vengono venduti sicché non abbiamo il tempo materiale di farli vedere tanti di voi vedono il video scicchiamano magari già stato venduto questi qui sono usati sono gli ultimi entrate ora sono due orologi similari ma con dettagli diversi questo è un usato che mi è rientrato tra l'altro sto aspettando il cinturino poi per caricarlo sul sito è un avenger cronografo military come vedete con trattamento dlc è un titanio trattamento dlc pesa anche per sé tra l'altro un orologio che è tenuto anche molto bene c'è solo qualche tocchetto da in qua e là e questo invece è si può definire un fondo di magazzino però aveva un problema che si è in una fase di cambio cinturino e praticamente è stata scheggiata leggermente la cassa questa tiziana colpa tiziano diciamo tiziana è stata scheggiata leggermente la cassa sull'interno del lanza l'orologio è nuovo di pacca si vedete lì e cambiare la cassa costerebbe troppo sicché viene venduto così ad un prezzo eccezionale questo è un super si wolf tra l'altro è se non mi sbaglio un 500 metri di profondità con valvola per l'espulsione dell'elio cassa full dlc veramente particolare però chi vuole acquistare questo bisogna che accetti quel piccolo difetto lì che naturalmente è compensato dal prezzo dormiamo qua dormiamo qua Gianluca è possibile vedere al polso un kinseiko ma è vero che la versione verde è acceso da 1950 euro è possibile acquistarla solo di persone in boutique l'unica boutique seco in italia è a milano piero the best piero non è the best prima di tutto eccolo qua king seco è qua quante volte un quadrante così burgundy burgundy poi sapete che di king seco c'è diverse versioni attualmente in collezione noi vi facciamo vedere questa è quella tradizionale da 37 mm quel quadrante così molto particolare bella e si purtroppo ci sono delle delle tirature limitate che vengono vendute solo dalla boutique ovviamente questo per dare ovviamente risalto anche all'unico negozio monomarca che è in italia però vi assicuro che quelli che vendiamo noi siamo più belli però c'è io i king seco non è che li vedo in tutti i negozi no perché la king seco viene dato solo ai master shop che cos'è un master shop è un negozio ovviamente intanto che ha una serie di requisiti ma i principali sono di avere marche abbastanza importanti all'interno del proprio panorama del negozio per dare ovviamente risalto poi a questi che sono già una fascia per quanto riguarda seco medio alta oltre c'è king seco gran seco sì oltre sì no c'è tutta una serie anche di prodotti della prospex abbastanza importanti si florian sarebbe possibile di vedere il sin 1 e il 50 sul polso di davide cosa dire di questo diver tecnico grazie mille per tutto quello che fate per noi appassionati saluti dall'austria florian allora vi facciamo vedere l'u50 che è la versione leggermente più piccola di uno in questo momento non ne ho in nessuna salsa sicché non riesco a farvelo vedere però questo mi potrebbe già prima parlavamo di tutti ma adesso abbiamo tirato fuori il suo omologo diciamo così zin guardate qua allora questa qua è una cassa in acciaio trattata tegiment vero trattata tegiment e poi zin ha tutta una serie di anche piccoli brevetti qua e la che vi invito ad andare sul loro sito a leggere perché hanno il sistema di deumidificazione interno lo scappamento di apal che è un trattamento particolare poi tegiment è già un'altra una lavorazione esterna che lo indurisce poi hanno anche per esempio la volta non è il caso di questo la ghiera a pressione per essere ruotata questo qua è uno dei più dei più semplici diciamo di quelli più la leggibilità gigantesca comunque guarda qua quello quello è un u50 questo è un t50 che ovviamente questa tra l'altro anche una tiratura limitata gold bronze è il gold bronze tra l'altro se guardate sul loro sito non è più acquistabile perché sono tutti esauriti eccolo qua sistema di deumidificazione quando questa capsula raggiunge cambia colore vuol dire che è il momento di sostituirla ti dice l'umidità interna dell'orologio questo qua gold bronze è una riga di bronzo e di oro molto particolare sì c'è anche l'argento dentro c'è diversi materiali una riga particolare chiaramente anche il costo va in base alle specifiche greg ciao a tutta la combriccola sono possessore di un mido decompression world timer e sarei interessato al bracciale del nuovo modello gmt che trovo molto bello chiedo conferma se la misura è la stessa e se fosse possibile acquistarlo separatamente a grandi linee e che prezzo grazie e complimenti siete grandi allora a grandi linee sì però bisogna chiederebbe bisogna chiedere specifiche in assistenza perché spesso possono non combaciare i buchi di entrata delle anze e di conseguenza il sì potrebbe diventare o no ad oggi è nuovo anche questo orologio se che non ti so dare risposta poi c'è la problematica il problema è questo che io nella recensione ho detto che la cassa è la stessa sì la cassa è la stessa ok però non è detto che poi tutto vada alla perfezione bisogna fare la prova qua non abbiamo il world timer c'è anche da dire che questo bracciale qua che è bello è completamente satinato mentre la cassa del world timer è lucida quindi per assurdo sarebbe meglio prendere il bracciale del del ocean star tribute che lui è lucido e provare quello sulla sulla cassa del world timer non questo perché altrimenti avresti una differenza di finitura veramente elevata su un bel bracciale ragazzi però è un bel bracciale però io sto qua lo sto indossando con il cinturino nato che è veramente spettacolare eccolo qua cinturino nato qua è veramente spettacolare achille ciao mitici è possibile vedere al polso del mitico davide il nuovo doxa sub 200 t da 39 mm nella bellissima colorazione verde grazie e love no facciamo vedere la bellissima colazione arancio il verde lo stiamo aspettando arriverà a breve perché anche loro l'avevano finito nella fabbricchetta poi lui voleva il verde quello pastello perché poi c'è anche il verde il verde esiste solo una colorazione che è quello soleil mentre tutti gli altri colori c'è la possibilità di comprarli di averli in pastello o soleil ma non c'è mica il sub 300 qua sub 300 eccolo qui e così diamo un'occhiattina subito alle differenze cioè 200 t e 300 t quindi ora vi faccio vedere com'è al polso questo ricordatevole ciumbi 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 e adesso proviamo il 300 t che è tutta un'altra dimensione 42.5 ma è un po più spesso perché quanto fa mille mille o cinquecento metri su 1200 mille o zeccata subito eccolo qua ora se è più grande ma lo vedete che il quadrante è piccolo rispetto alla cassa quindi sta bene anche questo dipende un po cosa volete voi nella vita il 300 t o il 200 t secondo me comanda il polso se al di là poi del gusto se il polso vi permette di portare il 42 millimetri prendete quello secondo me è molto più bello ma non è poi non è alla fine nemmeno questione di polso perché uno può averlo piccolo e volere l'orologio grande sto parlando dell'orologio piccolo capito che non sentirti chiamato in causa è l'orologio piccolo vabbè dai leggi davide budget mille euro scusate davide lui quello che fa la domanda budget mille euro il marchio che secondo voi propone il meglio tra i brand più conosciuti per me è emilton io lo dico intorno ai mille euro chiesto per me è emilton perché cioè praticamente non sbaglia quasi mai un colpo se è raro vedere un brutto odio quelli quelli di ventura quelli per il film dune però una particolarità quella lì no sì ma quello l'abbiamo già detto però nella maggioranza delle situazioni fanno degli orologi che sono veramente belli e poi sono anche precisi esulano un pochino dall'orologio ovviamente un altro concetto di acquisto anche io mi sono sbilanciato per me è emilton perché ho intorno ai mille alessandro potrei vedere qualche cronografo jungans grazie un saluto tanto per cambiare un pochino non le carte in tavola sempre i soliti meister cronoscope max bill cronoscope si si fa vedere questo e poi volendo che lo dobbiamo consegnare un cliente abbiamo un cronoscopo telemeter bellissimo e ve lo mostriamo questo qua richiama un pochino più gli stilemi retro un pochino più al vintage e io lo preferisco sinceramente rispetto al form che è un po più moderno un po più semplice semplice nemmeno tanto un pochino più moderno contemporaneo anche con quel cinturino che va a mettersi nella cassa in maniera così particolare si forma e telemeter poi scegliete voi ma non è che posso dire tutto io ragazzi armando un saluto a tutti mi fate molta compagnia vorrei chiedere come funzionano le prestazioni del gruppo watch prestazioni prestazioni perché prestazioni la do rileggere direi armando un saluto a tutti mi fate molta compagnia vorrei chiedere come funzionano le presentazioni del gruppo watch visto che non partecipano al watch and wonders hanno un evento tutto loro ce l'ho fatto allora sì praticamente da qualche anno a questa parte cioè dalla chiusura della fiera di basilea loro non partecipano più a manifestazioni offiere comuni ma ovviamente fanno degli incontri con i propri concessionari in date specifiche tra l'altro qualche anno fa l'abbiamo l'anno scorso era l'abbiamo fatte vedere ci siamo stati abbiamo fatto anche dei filmati c'è da dire la differenza che quelli che vanno le fiere comuni presentano gli orologi e li presentano a tutti quando vai a queste presentazioni qua così private ti presentano gli orologi ma alcuni hanno un embargo che scadrà fra tre mesi fra quattro mesi quindi non si può dire niente poi come al solito il segreto è quello di puncinella e saltano fuori poi tra l'altro siamo andati su anche quest'anno noi abbiamo già visto anche presentazioni di cui ovviamente non vi possiamo mostrare foto di prodotto che arriverà addirittura anche nel secondo semestre abbondante verso addirittura il natale un bel mido mi ricordo un bel mido che uscirà no sì certo ci sono anche dei begli emilton è lì nascosti pronti daniele bogani buongiorno volevo un vostro parere sul marchio nort quain anche riferito ad altri marchi in linea con i loro prezzi grazie nort quain è veramente un marchio si può dire nuovo perché è uscito nel 2019 però non è che è partito da da due scappati di casa che hanno deciso di mettere su un micro brand no mo detta così sembra un'offesa però no no dietro c'è tutta persone che hanno avuto esperienza con l'oroggeria svizzera nel passato con i grandi marchi no sono stati amministratori di delegati di brighton ad esempio e quindi ex proprietari di aziende magari non entriamo nello specifico comunque sia che fanno parte tuttora del panorama della buona orologeria mondiale quindi è partito in quarta come si suol dire con con pezzi di elevato costo ma anche di elevato valore con un design con una ricerca dietro che non sono indifferenti chiaramente è difficile penetrare il mercato quando inizi con dei prezzi un pochino così elevati cioè elevati relativamente no però sicuramente lavorano bene io ho fatto che la recensione di un paio di orologi c'è ad esempio il wild one che ha delle peculiarità tecniche delle specifiche molto particolari cioè costano ma costano valgono quello che costano sì tra l'altro oggi il marchio diciamo a due due particolarità il prodotto con all'interno calibri più commerciali tipo il sellita di fornitura e invece calibri di manifattura come il kenissi sicché c'è una differenza di prezzo ovviamente di cartellino molto elevata da uno all'altro vi offre anche la possibilità ovviamente di scegliere o di accedere al marchio anche con un costo minore sì poi c'è da dire per esempio questo qua ha un aspetto diciamo abbastanza canonico no questo è un cronografo che va a riprendere gli stili ami vintage come abbiamo visto prima ad esempio l'intramatica con i pulsanti a pompa però la maggioranza della produzione è specifica su un design veramente particolare che è riconoscibile poi che possa piacere o meno è un altro discorso ma gli independent sono i wild one sono veramente riconoscibili è un design particolare positivo negativo lo sapete tutti ci sono delle case che hanno dei design ostici da ingoiare ma che fanno la loro fortuna o boat dicevamo prima sono un design particolare però è riconoscibile per quello poi piace o non piace ma è tutto lì il discorso Stefano ciao a tutto il trio siete fantastici volevo sapere se è disponibile nel negozio lo Jungars a carica manuale da 34 mm con i numeri arabi sul quadrante e come lo vedete come every day watch oggi grazie Piero se il numero uno viene a leggere le favole della buonanotte al mio bimbo mamma mia che 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 orrore che questa scena perché orrore? le favole della buonanotte a te io sono bravo con i bimbo cioè si addormenta la seconda frase perché la sbaglia subito finita eccolo qua everyday watch no mi dispiace per te ma sto qua come everyday watch non va bene è un orologio ragazzo stupendo proprio il l'archetipo dell'orologio Bauhaus con il 4 che è il fonte particolare di quello stile architettonico lì 34 mm sottile ma è regante non è everyday no perché poi dipende nell'every day che cosa fai perché se nell'every day te ne vai al mare con lui se everyday watch se everyday te sei l'autista che ti sguidazza dappertutto il maggiordomo puoi usare anche questo come everyday ma basta che devi andare a fare la spesa fuori e dici ma sarà meglio che mi metti un orologio un po' robusto do un colpo al carrello ma cosa adesso però è bello eh da matrimonio io lo definisco da matrimonio ecco magari da matrimonio a quel cinturino questo è il classico dress watch come everyday ovviamente se vuoi qualcosa veramente mettere sul polso e non togli più qualsiasi cosa tu faccia magari ci puoi fare altre opzioni ci sono dei buoni Hamilton un pochino più strutturati come casa ci sono anche da 34 e Performer ad esempio si ci sono da 34 ci sono anche i Conker da 34 si ma ce n'è di orologi che comunque sia ti possono fare con la funzione lì anche con un diametro contenuto Gianluca buonasera ragazzi e complimenti per il format volevo chiedervi perché molti orologi non hanno la data in italiano secondo me è un valore aggiunto per incettivare l'acquisto voi che ne pensate grazie e continuate così siete grandi io non la penso così perché sa proprio di Provincialotto la data in italiano perché siamo nel 2024 l'inglese più o meno lo devono sapere tutti ma se non lo sapete tutti almeno i giorni della settimana in inglese li dovete sapere no Piero Thursday, Monday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Giovedì come si dice? non lo so Thursday bravo cioè tutti lo sanno poi ci sono dei marchi che hanno fatto il datario in italiano però più che altro tipo gli orologi tedeschi lo fanno in tedesco tendono a dare la loro natura no addirittura per esempio Junganz sui day date ti dà la possibilità di scegliere inglese o tedesco in fase di acquisto io comunque sono sono dell'idea ma anche se fosse in tedesco cioè cosa cosa mi costa imparare i giorni no allora diciamo che ci sono due letture allora se il marchio internazionale produce vuol produrre una volta sola non facendo ovviamente delle specifiche nazione per nazione conviene fare sempre l'inglese che è la lingua internazionale e però se vuole mantenere dei cliché di produzione rispetto a dove è stato fatto ovviamente i tedeschi metteranno il tedesco i francesi metteranno il francese se è un marchio italiano perché non mettere l'italiano però a quel momento lì chi lo compra fuori dall'italia deve adattarsi che sia in italiano anzi deve essere anche contento che c'è qualcosa in italiano come io devo essere contento che Junganz me lo può fare anche in tedesco Diego da Rovigo è possibile dare uno sguardo a qualche cronografo Eberhard continuate così che siete numero uno cosa sappiamo di Eberhard? abbiamo l'ultimo extra forte da 39 misura veramente interessante io quando giro gli Eberhard adesso lo giro al volo così guardiamo se fa l'effetto wow le finiture ora qua c'è anche la pellicola abbiate pazienza ma le vedete che le finiture dei calibri pur essendo un normalissimo ETA 77-50 si è un ETA 77-50 o un Sellita non lo so equivalente va giusto 77-50 le finiture dei calibri sono sempre questo qua ha la particolarità di avere il coccodrillo bianco a me sarebbe piaciuto un po' con un bel coccodrillo blu a contrasto con quell'azzurri non è mica male bianco così vabbè questo è un po' Napoli eh si? si un po' laziale laziale ecco laziale laziale ti piace di più? no mi piace di meno io sono romanista ecco ho fatto che perdo 50% degli iscritti romanista ma non mi frega niente il calcio diciamo la verità no è bello questo qua lo vedo bene estivo bianco così sulla pelle abbronzata del buon Piero fa un figurone no? non sono abbronzato però il bianco mi piace bravo anche il profisco rosa nero forza palermo bravo Ricky Memphis sono un estimatore dell'icon sono previste novità in futuro un saluto al doppiatore Piero ecco fatto bravo oh questa qua è la novità dell'icon del momento in bronzo perché non era stato ancora fatto in bronzo vero? no no questa è una novità si è una tiratura cassa bronzo è un bronzo dovrebbe essere abbastanza naturale sicché dovrebbe poi brunirsi e poi per chi volesse c'è la possibilità riusando i terminali di usare tutti i cinturini previsti su Icon questo qua è bello come cinturino perché è un colore particolare anche spesso scamosciato e quindi poi volendo ci può mettere anche il bracciale dell'icon in acciaio da 42 no non l'ascoltate viene fuori scusate la prova è una cagata unica è una prova facciamo una prova il bracciale uno vuole lo rosa giralo la vede già l'effetto giralo eccolo lì mettici quello del giallo l'effetto è quello acciaio e bronzo scusate tanta gente vuole l'orologio in acciaio e bronzo come il 65 che non c'è più no? ma no ma quello aveva l'anima centrale no me l'hanno bocciato bocciato questo qua è bello così sì è proprio bello quando si abbronza tra l'altro ho visto una foto di sfuggita dove penso che sia un progetto stiano cercando di smussare un pochino i cavalieri per dargli un aspetto un pochino diverso un restyling del prodotto ma questa qua è la premizia che dai? sì questa è una bomba che lancio lì così ma lo sanno che puoi dirlo ma io l'ho detto poi se lo sanno voi lo dite in giro ce lo teniamo per noi sì sicuro guarda Alberto ciao grandi è possibile vedere al polso un rado true square magari non nella versione scletrata grazie e continuate questo qua sì io ho recensito ultimamente il rado anatom no? sì bello anche quello è un esempio di orologio quadrangolare è finito Dimon perché ti incarti così per aprirli tira non si rompe niente è tutto acciaio di ottima qualità non è acciaio è titanio non è titanio sì la chissura è titanio vabbè però l'orologio è in? ceramica la buona vecchia ceramica dei rado che sanno come farla loro guardate com'è lucido non so se si vede dalla camera se è lucido o meno ma eccolo qua un orologio quadrangolare true square magari è un po' sottovalutato come orologio l'anatom è più rettangolare rispetto a questo no? c'è anche il bracciale in molti l'anatom è proprio rettangolare hanno detto ma perché non fare anche il bracciale in ceramica sull'anatom il risultato sarebbe stato questo magari in ceramica nera invece che così eccolo qua se volete un orologio completamente in ceramica antigraffio e quando si va da rado loro ti mettono a disposizione anche il punteruolo per fare la prova per fare la prova io non mi sono mai azzardato perché se faccio la prova faglio tanto è loro l'orologio ti mettono il punteruolo per fare la prova puoi graffiare puoi fare anche così no puoi graffiare vai avanti fallo te così poi se vi è male e se me lo danno loro mi dicono loro che faccio no allora questa qui è una ceramica high tech antigraffio e anti urto è una ceramica che fonda 1400 gradi sicché ovviamente quando si indurisce diventa molto resistente un dettaglio tecnico che dico sempre è la stessa ceramica che aveva come rivestimento lo shuttle quando era ancora operativo pensate lo shuttle quando rientra nell'atmosfera alle sollecitazioni e alla temperatura che deve resistere l'unica volta che ovviamente la nasa ha perso uno shuttle perché era saltato un mattoncino di protezione all'imbolucro sicché ecco è una ceramica veramente resistentissima Luca ciao ragazzi è ancora disponibile il negozio Liorrado Golden Horse Black Deal continuate così in love no allora il Golden Horse Black Deal è definitivamente esaurito si può avere ancora qualche verde e il blu la versione rossa e nera che erano la prima versione in tiratura uscita sono definitivamente esauriti purtroppo non ho più neanche nel verde e nel blu perché in questi giorni li abbiamo consegnati tutti Armando ciao a tutti è possibile vedere lo Zenit Pilot Crono con complicazione flyback indossato da Davide abbiamo circa lo stesso polso e non so se prendere la versione normale o crono grazie mille siete i numeri uno allora qua stiamo parlando del classico pezzone questo qua è veramente uno di quelli da io me lo metto al polso ragazzi come vedete che sto tanto c'è da spiegare che la funzione flyback cosa sarebbe la funzione flyback in un cronografo semplicemente che si fa partire con il pulsante ore 2 la lancetta cronografica per cui si cronometra un tempo qualsiasi poi invece di stopparlo normalmente con il 2 cosa che si può fare e poi azzerare con il 4 quando una volta è partito se si vuole subitaneamente misurare un conseguente lasso di tempo basta premere al 4 e lui riparte istantaneamente vedete che parte eccolo qua lo zenith pilot cronografo esiste solo con un cinturino esiste solo con un cinturino mentre la versione solo tempo anche con il bracciale no il pilot al momento sono solo cinturinati tecnico cinturino tecnico allora ovviamente perché veniva perché è stata creata questa questa funzione perché era una funzione che usavano i piloti in volo e intanto avevano i guanti sicché difficilmente riuscivano a schiacciare i pulsanti e poi per siccome volavano ad alte velocità avevano pochissimo tempo per cronometrare sicché ovviamente quella è una funzione che agevolava tutto il procedimento in un lasso di un secondo eccolo qua il bellissimo è il Primero in tutta la sua splendevolezza con la ruota colonna laggiù in fondo c'è poco da dire su questo ruoto è il Primero è differente dal solito tra l'altro flyback complicazione grandata grandata è un bello orologio b-compass b-compass prezzaccio venduto venduto sì accidenti venduto quindi il prezzo non c'è più non si sa e saremo sopra le 10.000 no siamo di più minchia mi sembra che siamo sui 13 2 per Piero e 1 per te sono 3 è finito Piero allora facciamo gli saluti finali dai vieni qua dietro mia moglie mi ha obbligato a salutare di nuovo il suo dottore salutalo ciao Costantino ti aspettiamo il 12 maggio va bene bravo Costantino allora eccoci qua cari amici abbiamo finito le domande e anche le risposte perché vanno di conseguenza giustamente e quindi vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao